Luca De Biase, Presidente della Fondazione Aref, che svilupperà con il Consorzio dei Comuni Trentini dei Media Civici ad hoc per ComunWeb. Beh sì, abbiamo visto con il successo dei media sociali quanto le persone partecipino e si scambino informazione su internet. Quello che abbiamo anche visto è che le persone sui media sociali si riuniscono per simpatie, per simiglianze, per ideologie, si formano delle tribù. Quello che invece ci serve sono dei luoghi nei quali si incontrano le persone che non necessariamente si piacciono ma hanno qualche cosa in comune, hanno delle decisioni in comune da prendere, hanno una vita in comune, hanno una convivenza. E questo è il luogo nel quale noi chiamiamo, che noi chiamiamo media civici, è un luogo nel quale le persone si incontrano secondo delle regole, un metodo di convivenza civile. I comuni sono il luogo fondamentale della convivenza civile, è il primo posto dove viviamo. E questo progetto, come un web, che è oggettivamente un successo, con 120 comuni connessi, che utilizzano la stessa piattaforma, che informano e ricevono informazioni dai cittadini, cominciano ad essere uno spazio significativo. Aggiungendo a questo spazio dei luoghi per raccolta di istanze ben organizzati, tali per cui le persone collaborano e coprogettano con l'istituzione delle soluzioni per la convivenza, effettivamente questo potrebbe essere un inizio di un processo di trasformazione della relazione tra istituzioni e cittadini che risponde alla sfida contemporanea, che non è una crisi, è una grande trasformazione nella quale tutti noi siamo coinvolti, tutti noi siamo chiamati a dare un contributo secondo le nostre capacità e competenze.